Inutile invocare più crescita per diminuire le disuguaglianze. Parole chiare, parole da comprendere, interiorizzare e concretizzare. Su questo concetto ha basato il suo intervento il professor Zamagni, ospite della seconda giornata di lavori del Festival della Dottrina Sociale di Verona. Un'occasione, quella offerta al professore, per cercare di far comprendere a più persone possibili che è utile cambiare le regole del mondo economico per superare la crisi che stiamo vivendo. Il fenomeno delle disuguaglianze non è necessitato né dallo stato di natura né dalle condizioni storiche. Bisogna prima di tutto spiegare alla gente che le disuguaglianze ci sono, ripeto, non perché lo ha imposto la scarsità delle risorse, come molti pensano, perché le risorse sono in continuo aumento, è perché le istituzioni economiche, cioè le regole del gioco economico, funzionano in maniera perversa e di conseguenza accade quello che appunto tutti sanno. Allora, siccome è dimostrato che l'aumento delle disuguaglianze è un fattore che impedisce lo sviluppo, se noi riuscissimo a convincere, a cominciare dagli economisti e via via i politici, che tenere in piedi le disuguaglianze è la via più sicura per il collasso e per il declino, avremmo risolto buona parte dei problemi, perché, ripeto, le disuguaglianze non sono con la conseguenza della povertà, delle risorse, della scarsità, non è vero niente. Cosa possiamo fare noi per cambiare queste situazioni? Primo di tutto convincersi di quello che ho detto e di obbligare chi parla in pubblico, cominciare dai politici, di smettere di dire stupidaggia. Quando la gente è informata e sa l'origine dei certi fenomeni, in generale. Secondo, bisogna cambiare il modello di welfare. Renderò un modello di welfare non più assistenzialistico, che perpetua le disuguaglianze. Terzo, bisogna cambiare le istituzioni economiche, nel senso di aprire di più a quelle forme di impresa, come le imprese sociali, le imprese cooperative, le cooperative sociali, eccetera, che hanno appunto come obiettivo quello di non separare il momento della produzione dal momento della distribuzione del reddito della ricchezza. in diversi paesi avanti.